Dieci candeline e una marea di ospiti. Passaggi Festival sta per festeggiare in grande stile il suo primo decennale, con 15 eventi al giorno tra presentazioni di libri, mostre, premi e aperitivi letterari. Il tutto rigorosamente gratuito, anche grazie al contributo degli sponsor della Regione Marche e del Comune di Fano. Le date sono dal 18 giugno al 26 giugno, le rassegne sinceramente non le ho contate, siamo intorno a 14-15 presentazioni di libri al giorno in media e poi ci sono naturalmente i premi, uno ancora stiamo ragionando su chi darlo, il primo fuori passaggio, due li abbiamo già definiti, il premio passaggio a Dacia Maraini venerdì 24 giugno e il premio giornalistico Andrea Barbato martedì 21 giugno a un inviato di guerra in questo momento in Ucraina, Lorenzo Cremonesi. Ma il punto di forza di Passaggi, promosso da Passaggi Cultura e da librerie Coop, sarà come sempre il ricco parterre di ospiti. Gli ospiti innanzitutto li potete trovare tutti su passaggifestival.it, io direi che alcuni nomi si devono fare per forza, cioè come non citare Francesco Guccini che riceverà tra l'altro un premio speciale, quello appunto della decima edizione, ma come dire abbiamo di tutto, di tutto da Francesca Michelin, la cantatrice Francesca Michelin, il filosofo Maurizio Ferraris, lo sportivo con una vicenda personale molto forte come Alex Schwarzer, quindi abbiamo davvero un panel composito da tantissimi ospiti di ambienti differenti, c'è chi viene dall'Accademia, di chi dal mondo dello sport, chi dal giornalismo, chi dalla politica, chi dal governo, cito per esempio il sottosegretario alla sicurezza Fancur Gabrielli che verrà a presentare un suo libro, è un festival che speriamo che possa accontentare i lettori e i cultori, gli amanti dei libri di tutta Italia. Saliranno tra gli altri sui vari palchi di Passaggi anche Andrea De Logu e Mario Giordano. Al Pincio poi, come sempre, ampio spazio al fumetto, alla musica e al mondo del web. Il Pincio abbiamo due rassegne molto particolari, una è quella fuori passaggi che è dedicata un po' al mondo della musica e dei social, l'altra è Passaggi fra le nuvole, dedicata ai graphic novel, perché ci sono due palchi, uno davanti all'arco d'Augusto, che anzi ha alle spalle l'arco d'Augusto, gli fa da quinta l'arco d'Augusto e l'altro nei giardini del Pincio. Lì abbiamo appunto, ho fatto prima il nome di Francesca Michelin, abbiamo Nina Zilli, abbiamo Carlotta Vagnoli, Jonathan Bazzi e tanti altri. Nella parte dei graphic novel posso citare Sio, posso citare Zuzu e cito anche un concorso, perché ci sarà la premiazione, una lettura fra le nuvole dedicate alle opere inedite, soprattutto ci sono arrivate opere di esordienti. Squadra vincente dunque non si cambia, neppure per questa decima edizione, il cui tema sarà con dubbia ragione, sul quale sarà incentrato il discorso notturno finale di Ivano Dionigi. Conferme a parte però, saranno almeno due le novità davvero importanti di quest'anno. Il festival va fuori Fano, nel senso che il 18 e il 19 giugno, sabato e domenica, si apra a San Costanzo, sarà uno spazio dedicato alla narrativa italiana e uno degli ospiti è Verone Capivetti, che nell'occasione presenterà un suo giallo, giallo messicano. Due giorni in cui San Costanzo diventerà per due giorni, grazie a Passaggi Festival, il borgo della cultura. Quindi siamo estremamente emozionati per questa grandissima occasione, ma anche estremamente grati all'organizzazione di Passaggi Festival. Però sarà una o due giorni che non si limiterà esclusivamente al luogo fisico di presentazione, ma sarà una o due giorni in cui tutto il centro storico di San Costanzo verrà coinvolto da tantissime novità. L'altra novità importante, a mio avviso, è l'apertura di una nuova sede proprio vicino alla Memo, dove siamo ora, qui accanto al Chiostro delle Benedettine, un chiostro quattrocentesco molto bello, dove porteremo le rassegne specialistiche, cioè rassegne che parleranno di argomenti particolari, benessere, tecnologie digitali, filosofia, arte e scienza. Ma devo dire un grande anniversario, innanzitutto bisogna fare i complimenti e gli auguri a quelli che sono gli organizzatori, che veramente hanno concepito un'idea molto bella e importante per la nostra città, che da subito abbiamo sposato come amministrazione. Oggi, devo dire, è diventata una grande manifestazione della città, una manifestazione che coniuga ovviamente la letteratura, la cultura, quindi il leggere che per la nostra città è molto importante, ma anche che coniuga veramente un punto di attrazione per la nostra città con tante persone che arrivano e che vogliono godere in questo periodo la bellezza della nostra città. Quindi complimenti, auguri a passaggio, ovviamente ci sarà sempre un completo supporto per far sì che questa manifestazione cresca negli anni. Una crescita che è già nei piani degli organizzatori, che per i prossimi dieci anni hanno davvero delle grandi ambizioni. Io spero che ci sia una speranza che diventi realtà e da qualche anno che ci sto lavorando, io credo che Passaggi Festival debba interloquire sempre di più con le città vicine. Fano certo rimane il centro del festival, ma non si può non guardare all'entroterra e come non si può non guardare anche delle collaborazioni con Pesero. Gli ospiti che arrivano, noi ovviamente li facciamo arrivare in stazione a Pesero e poi li accompagniamo a Fano, neanche si accorgono che stanno cambiando città a Fano-Pesero ed è normale. Quindi la mia sfida e la mia speranza è quella di un festival diffuso in tutta la provincia di Pesero-Urbino.